Sì, secondo me bisogna fare rapidamente una correzione che possa metterci in linea con quello che emerge da parte della Cassazione e della Corte Costituzionale e concentrarci poi sulle questioni economiche e avviare un lavoro di più lungo periodo e più profondo con le commissioni affari costituzionali, Camera e Senato.